FASHION TIMES Sempre felpe, io sono un ragazzo da felpe, adoro vestirmi comodo quindi adoro mettere felpe col cappuccio, magliettine, stare un attimino più, meno diciamo ingessato Stai meglio con la maglia dell'arco diciamo? Eh sì E qual è che ti ripeteremo il campo? Presto, presto, manca ancora poco Perché comunque guarda credo che ne avranno bisogno lì dietro Ma no, io direi che stanno facendo molto bene anche così, sicuramente spero di poter dare una mano E la nazionale? Nazionale, prima bisogna pensare a giocare, a giocare bene il club, poi la nazionale verrà se deve venire Spero di farcela con l'Inter? Spero di farcela, dato che oramai è un anno, metà anno calcistico che mi sono fatto male, mi sono fatto male appunto con l'Inter Quindi spero di rientrare con l'Inter Ok, grazie mille Grazie a te Ciao 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 Ciao